Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono Mario Cecilito oggi andiamo a fare un total body workout insieme e avrò anche un altro tre piedi con un altro cellulare per fare la diretta su Twitch ragazzi mi raccomando seguitemi anche sul mio account Twitch novità dove farò ogni settimana tutti i miei workout in diretta e cosa molto importante finalmente abbiamo montato la barra per trazioni ho finito proprio adesso di montarla insieme a mio padre e qui abbiamo poi tutto quello che ci serve nella nostra home gym quindi banca, pesi e così via adesso ragazzi andiamo a fare questo workout insieme come sempre invito iscrivetevi al canale cliccate sul pulsante iscriviti sotto attivate la campanellina per le notifiche mettete mi piace, commentate e condividete sui social adesso andiamo a fare il nostro workout let's go ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti